robin 44 un'altra sarà un'altra grande battaglia si penso un'altra grande spettacolo dobbiamo iniziare subito e noi spingiamo con tutti che abbiamo e si spero possiamo speriamo per il migliore di certo sarà un'altra partita molto combattuta molto equilibrata come sono state le prime tre sì io aspetto tanto di mondare come hanno dimostrato anche le prime partite non è facile mai ma così anche più bello noi dobbiamo iniziare subito e noi lasciamo tutti che abbiamo sul campo